Benvenuti su Febbre da Gossip. Prima di condividere gli ultimi avvenimenti, ti chiediamo gentilmente di mostrarci il tuo supporto mettendo un mi piace al video e iscrivendoti al nostro canale, poiché ciò è di grande importanza per noi. Grazie mille. Oggi vogliamo parlare del celebre programma televisivo Ballando con le stelle, che da ormai molti anni fa parte della programmazione televisiva italiana. Dal 2005, questo show è stato trasmesso in prima serata su Rai 1, con la conduzione affidata a Millie Carlucci, una figura consolidata nella conduzione televisiva. Apprezzata per la sua empatia con il pubblico, Ballando con le stelle è uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Purtroppo, negli ultimi tempi, questo programma ha dovuto affrontare una dolorosa notizia. La madre di Alessandra Tripoli, di nome Ninfa Leone, è prematuramente scomparsa a causa di una malattia. Alessandra Tripoli stessa, ha condiviso questa triste notizia attraverso i suoi canali social, mediante un toccante post su Instagram. Nelle sue parole, Alessandra Tripoli ha voluto ricordare sua madre come una persona sempre sorridente e solare. Oggi, un pezzo del suo cuore se ne va con lei, e la perdita è profondamente dolorosa. La madre della ballerina di Ballando con le stelle è venuta a mancare a causa di una malattia che è stata scoperta circa un anno fa. Alessandra Tripoli ha anche condiviso una foto della madre insieme al nipotino, rendendo omaggio ai bei momenti trascorsi insieme. La sua affermazione finale, che le mamme non dovrebbero mai andarsene, dovrebbero restare sempre con noi, risuona nel cuore di molti. Uniamo tutti i nostri pensieri e affetto a Alessandra Tripoli in questo momento difficile.